Il dottor Davide Bisogno vi aspetta in via Starza 27 a Cava dei Tirreni. E' tornata al centro dell'attenzione nel corso della seduta di consiglio comunale dedicata al Question Time dello scorso 31 ottobre, la questione relativa alle reti presenti in alcuni settori dello stadio Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni. A formulare un'interrogazione sull'argomento è stato il consigliere comunale Eugenio Canora. Questo è stato l'oggetto della nostra interrogazione di oggi, abbiamo lavorato con molti professionisti e la risposta del sindaco è stata ancora una volta di tergiversare, questo non è un atteggiamento giusto, quelle reti metalliche che si alzano per dei metri sopra le inferreate sono un'offesa per tutta la città di Cava dei Tirreni, per il cittadino, per il cavese, perché sono un unicum e non è previsto da nessuna norma. Ho chiesto al sindaco di intervenire, sia in maniera dura, mettendo una data in cui intende eliminare questa inutile ostruzione per ridare dignità ai cittadini cavesi, perché quello non è soltanto un danno ai tifosi, a chi guarda la partita nei distinti e nella curva, ma visto che ci sono le telecamere di televisioni nazionali e internazionali ogni settimana allo stadio è un danno di immagine per l'intera città, oltre che, come si può dire, davvero un'offesa. Quindi il sindaco deve far sentire la sua voce, sia presso il GOS, quindi la questura, sia presso soprattutto il prefetto, quindi la commissione provinciale per la sicurezza, perché è opportuno che a Cava vengano eliminate queste inutili barriere e dare dignità a tutti i cavesi. A fornire una risposta a Canora è stato il sindaco Vincenzo Servalli, il quale ha evidenziato come si stia lavorando in sinergia con il presidente della Cavesi Alessandro Lamberti attraverso continue interlocuzioni con gli organi competenti. In particolare, Servalli ha fatto sapere che è stato richiesto di presentare un progetto alla prefettura per individuare delle soluzioni alternative, capaci di garantire ugualmente la sicurezza, per poter addivenire alla rimozione delle reti e che già nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità.